Nella sala della celebre trasmissione campo aperto del canale Sky Sport, Paolo Condò, figura di spicco del mondo sportivo, ha spiegato le sue considerazioni sul rendimento di Simone Inzaghi alla guida dell'Inter, fornendo un'analisi dettagliata e coinvolgente che sicuramente ha emozionato i tifosi nerazzurri. Paragonando Inzaghi al mitico Toto Wolf, patron della squadra di Formula 1, Condò sottolinea l'importanza dell'allenatore come figura strategica e ispiratrice, fondamentale per il successo della squadra sul campo. Parlando dell'approccio tattico di Inzaghi, Condò elogia il passaggio a un sistema di gioco più offensivo, che rompe con la tradizionale percezione difensiva del 3-5-2. Mette in risalto il ruolo dell'allenatore nell'evoluzione dello stile di gioco della squadra, modellandolo secondo le proprie idee e preferenze. Questo cambio di paradigma tattico, secondo Condò, è stato fondamentale per la crescita e il successo dell'Inter in questa stagione. Rimani fino alla fine di questo video perché vogliamo sapere la tua sincera opinione a riguardo, ma prima lascia il tuo mi piace sul video e iscriviti al canale per non perdere le prossime novità sull'Inter. Condò sottolinea anche l'influenza positiva di Inzaghi sullo sviluppo individuale dei giocatori, citando esempi come Di Marco, Cialanoglu e Mkhitaryan, le cui prestazioni sono migliorate notevolmente sotto la guida dell'allenatore. Inoltre sottolinea l'importanza di giocatori più esperti, come Bastoni, che hanno beneficiato anche dello stile di leadership e della tattica di Inzaghi. L'approfondimento di Condò offre ai tifosi interisti uno sguardo ampio e penetrante sull'operato di Inzaghi e sull'andamento della squadra in questa stagione. Le sue dichiarazioni incoraggiano ottimismo e fiducia nelle capacità dell'allenatore di portare l'Inter verso nuovi livelli di successo e di realizzazione. Nel corso della stagione i tifosi dell'Inter continueranno a seguire da vicino il lavoro di Inzaghi e l'andamento della squadra in campo. Con la guida e la leadership del tecnico sperano di vedere l'Inter realizzare grandi traguardi e vincere titoli importanti. Ora vorremmo conoscere la tua opinione da tifoso dell'Inter sugli elogi di Paolo Condò per il lavoro di Simone Inzaghi. Cosa si prova nel sentire e riconoscere i progressi fatti dalla squadra sotto la guida di Inzaghi? Condividi la tua opinione nei commenti qui sotto e, forza Inter!